Abbiamo convenuto come opposizioni, qui avete tutti i capigruppo delle opposizioni, SEL arriverà alle ore 17, mi è stato detto, arriverà alle ore 17, tutte le opposizioni, scusami 5 stelle, arriverà alle ore 17, quindi ci sono tutte le opposizioni in questo ramo del Parlamento qui rappresentate. Cosa vogliono dire? Poi dico due cose io e poi dicono i colleghi. Cosa vogliamo dire con questa uscita dall'Aula e non partecipazione al voto in questa fase finale? Denunciamo la deriva autoritaria che questo sia il metodo che il merito della riforma costituzionale e della riforma della legge elettorale hanno assunto in questa fase della vita politica del nostro Paese. In particolar modo stiamo parlando della riforma della Costituzione che oltre che avere enormi problemi di merito, su cui poi tra l'altro ci sono opinioni anche divergenti al nostro interno, però c'è un'opinione assolutamente convergente al nostro interno, che ci sono delle violenze metodologiche inaccettabili. Grazie. 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 Grazie.